Se hai bisogno di staccare la spina, ti è capitato il video giusto. Esiste una bazzia in cui si può dormire tra rilassanti canti gregoriani, immersi nella natura più selvaggia, lontano dai rumori della quotidianità. Qui è possibile rigenerarsi totalmente, infatti il telefono non prende proprio. Le cellette sono essenziali, ma allo stesso tempo davvero accoglienti. Nella foresteria è possibile mangiare su un lungo tavolo condiviso, piatti semplici e gustosi. Ora sicuramente vorrai sapere come si chiama questo luogo. È l'eremo di Santo Spirito e si trova in Abruzzo, nel cuore della Maiella. Ti piacerebbe dormire qui? Condividi questo video con tutte le persone che hanno bisogno di rilassarsi.